Ciao gente, benvenuti su questa nuova puntata di questo gioco, che io non riesco a ricordare il nome, che praticamente abbiamo applausato avanti, non so pronunciare, beh comunque riprendiamo da dove siamo interpretati, allora qua ho già ispezionato, quindi ho la chiave e posso andare qua. In cucina, quindi escochiamo la cucina. Ok. 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 Ho solo bevuto, ho solo bevuto, non so cosa e... O si è ricavato un brutto o cose e l'ho morta così. Così un po'. Dico, per le cose che hanno poca importanza, arriva a lui e lei muore. No perché dico eh, se io schiaccio qui, ho il rumore e mi scopre, però se lo faccio qui, o qui, o non mi scopre. Ok. Ma... 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 Scherziamo. Ok. Il rumore da lì. Stato un'altra pagina, bene. E ora tocca le chiavi. Ecco, ora qui potrei fare... un finale. Ecco, se io... ora con il chiavi vado l'uscita e non vado... qui... Ecco, c'è un'altra finale, ma... tutto raga... vi farò vedere tutti i bad ending e i finali. Ho trovato un coltello. Molto interessante. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.